Per Mido TV siamo qui con Silvia Paoli, giornalista blogger e esperta di moda. Buongiorno. Quali saranno i colori della nuova stagione? Allora, colori, specialmente sugli occhiali da sole, molto colori fosforescenti, quindi arancio, verde, giallo, rosa, turchese, però molto elettrici, molto forti. E per essere veramente alla moda, quale occhiale bisognerà indossare quest'estate? Per me, quello che io voglio è l'occhiale di legno, quindi occhiale di legno chiaro, un'essenza chiara, magari con lenti sfumate, non nere, mi sembra molto moderno e magari dalle forme forse possono essere anche un po' retro, però con la leggerezza del legno lo vorrei anche da vista. Molto bene, grazie mille per essere stata con noi. A voi, arrivederci.